Fare qualcosa che prima non c'era. Qualcosa di nuovo, che esiste da un'ora o da duemila anni. A questo servono le mani, qua, a Bologna. A fare qualcosa che duri nel tempo o che si consumi nell'arco di pochi minuti. Qualcosa che sia così simile alle mani di chi lo ha fatto da conservarne per sempre la forma. Qualcosa di diverso, specifico, unico, che assomigli alle persone di questa città, alle loro vite, al tempo che hanno speso per farle. Che raccontino una storia. DECO è il marchio che Bologna mette a ciò che ha la forma di Bologna. DECO è un segnale che dice qui c'è il tempo di Bologna e dei bolognesi. Con la denominazione comunale riconosciamo, tuteliamo e valorizziamo ancora di più i tanti modi di fare Bologna.